Cos'è la felicità? Ognuno ha la sua idea di felicità morale, un materiale che sia, la felicità a mille volti, però poi alla fine, a forza di sfottire, 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 la felicità è una cosa sola, la salute. Rossella Zampiron, eccola qua, buongiorno, ha molto da raccontarci sulla salute e sulla felicità, felicità che per lei è rappresentata dal violoncello, quando è che hai iniziato a suonare questo strumento? Ho iniziato verso i nove anni, grazie a una maestra che ci ha visto bene, ha fatto chiamare i miei genitori a scuola, all'elementari e ha insistito affinché io iniziassi a suonare uno strumento, lei diceva uno strumento ad arco, perché secondo lei ero molto intonata e mi riusciva facile capire tutto ciò che spiegava della musica, io ho iniziato, mio papà conosceva un amico che suonava la fenice, che però era un signore anziano, che suonava violino e però all'incontro ha portato un suo amico che suonava violoncello e mi avrebbe insegnato il violoncello. Mi scusi, lei, prima l'ho vista, è molto alta, ma a nove anni il violoncello era più grande di lei? Sì, era più grande di me, ma esistono varie misure. Ah, grazie per aver colpato questa mia vacuna. Il violoncello le ha regalato grandi soddisfazioni, cosa sognava di diventare? Ma da piccola, a quell'età, sogno un po' di tutto, quindi facevo vari sport, facevo varie cose, però appena ho iniziato a suonare il violoncello mi immaginavo a suonare grandi concerti, con grandi orchestre, o comunque è stata la mia idea, non ho mai perso questa linea. Un'epifania, il violoncello è stato un'epifania, e poi i concerti sono arrivati, è diventata, come dire... Mi sono diplomata in conservatorio, al Benedetto Marcello di Venezia, io sono di Venezia, anche se vivo a Roma. Mi dispiace per lei, perché non è facile rispetto a Venezia. No, sono due realtà diverse, ma entrambe bellissime. E quindi i concerti e della sua passione ha fatto un lavoro. Sì, sì, ho fatto un lavoro, faccio sia il sacro che il profano, dico io, perché suono sia le cose classiche, sinfoniche, operistiche, ma lavoro anche in musica pop, lavoro nella grande famiglia della Rai. Lo so, ogni tanto, se ben ricordo, l'ho vista da qualche parte in qualche trasmissione. Allora, la vita sembra essere incanalata per il verso giusto, la passione che diventa lavoro e ragione di vita, felicità. E questo è il volto della felicità. Quando tutto sembrava incalanato per il verso giusto, dietro l'angolo la sorpresa, una doccia fredda. Che anno era e che cosa accade? Era il 2021, l'estate del 2021, e ho iniziato a sentirmi male. Ho iniziato ad avere degli atroci mal di testa, a cui io non ero soggetta, non ero soggetta ai mal di testa, e iniziava a girarmi la testa. Quindi sono andata a fare degli accertamenti, sono andata a fare delle risonanze, si vedeva poco, mi hanno detto che poteva essere stress da Covid, ma io continuavo a stare sempre peggio, ma sempre peggio seriamente. Quindi ho iniziato a prendere tantissimo cortisone e, essendo io musicista, una delle prime cose che ho notato è che iniziava a calarmi l'udito a destra. E ho iniziato a girovagare per l'Italia per capire cosa io avessi, ma era sempre peggio anche l'equilibrio. Quindi non riuscivo più a guidare la macchina, più a essere autosufficiente, sempre peggio. Uno pensava agli otoliti o qualcosa del genere? Mi hanno detto che sono andata da degli otorini e, girando per i vari otorini, fortunatamente un otorino ci ha visto lungo e ha capito che c'era qualcosa che non andava di serio. Mi ha fatto fare vari accertamenti, solo che io continuavo a peggiorare fortemente. Ho iniziato a non riuscire più a mangiare e mi aveva preso tutto. Loro all'inizio pensavano a un neurinoma, a uno schwannoma. Invece? Invece ha avuto il coraggio di operarmi qui, in questa parte della testa. E l'isologico è stato abbastanza spietato. Linfoma, grandi cellule B, quarto stadio, aggressivo. Una doccia fredda, praticamente. Una doccia fredda, in più io non deglutivo nemmeno più l'acqua, quindi ero arrivata proprio alla fine. Mi hanno spedito immediatamente dal professor Martelli al Policlinico Umberto I, nel reparto ematologia. Mi hanno preso in carico, subito dato i liquidi, subito al pronto soccorso ematologico, che è l'unico pronto soccorso ematologico che esiste in Italia. Sanità pubblica, ricordiamolo. Sanità pubblica, assolutamente. E io ringrazio il professor Martelli e tutta la sua echip, perché sono stati favolosi. Grazie alla sanità pubblica. Ricordiamocelo, grazie alla sanità pubblica. Non è stata facile, perché quanti mesi in isolamento ha dovuto passare? Sono stata in isolamento da febbraio 2022 ad fine agosto 2022. Sette mesi. Sette mesi posti. Lei ha chiesto di avere con sé il violoncello. Sì, perché non potevo vedere nessun familiare. Fortunatamente adesso esistono i social e i cellulari, quindi riuscivo a vederli lì. Ma non avere il contatto fisico di nessuno, perché ovviamente non hai più difese immunitarie. Facendo delle terapie spietate che danno tutti gli effetti collaterali che potete immaginare, ci sono tutti. Quindi non poter abbracciare una persona. Non poter abbracciare una persona, l'unica cosa che riconoscevo erano le voci e gli occhi degli infermieri che tutti barbati a coperti, non solo mascherina, anche guanti, camici, cuffietta e quant'altro. Riconoscevo le voci e gli occhi degli infermieri. E ho chiesto, quando ho iniziato a respirare anche da sola, dopo un mese, ho chiesto di avere con me, il professor Martelli, di avere con me il mio violoncello. Se lo suonava, ce la faceva anche a sollevarlo. Nessuno pensava che io ce la potessi fare. Invece io ho iniziato a vederlo lì, a vedere la custodia e avevo un pezzo di me stessa, un pezzo di casa, un pezzo di me, il mio violoncello. Io non riesco a pensarmi senza il mio violoncello. Vi conoscete da molto? Vi conoscete? Ci conosciamo da quando avevo nove anni. È sempre quello? No, ce ne ho due, però questo ce l'ho ancora dall'85, insomma 87. La prima cosa che ha suonato in ospedale? Non ricordo cosa, penso di aver fatto l'alleluia di Cohen. E infermieri e pazienti cosa dicevano? Sedevo sul bordo del letto, attaccata all'infusione delle terapie, attaccata al pic, e ho iniziato a suonare. Gli infermieri erano sorpresi, hanno aperto la mia porta della mia camera e anche le porte degli altri pazienti che non conoscevo. Suonavo e mi arrivavano gli applausi della gente, ed è stato uno dei più bei concerti che abbia mai fatto. L'ho fatto varie volte, ricordo che venivano su anche i dottori e gli infermieri, anche del blocco operatorio e degli altri reparti. E sono loro che mi hanno girato qualche video in ospedale, insomma mi hanno dato forza. L'ospedale non è un bel posto dove soggiornare, però si creano legami molto forti con persone sconosciute che diventano fondamentali, con i quali poi magari ci si ritrova anche dopo, anche perché con delle operazioni come ha subito lei, si entra a far parte di una comunità di quelli che ce l'hanno fatta e cambiano completamente le prospettive di vita. E poi il giorno, quel giorno può andare a casa. È stato dopo un percorso lungo dove ho fatto tanti mesi di terapie e poi ho fatto il trapianto del midollo di cellule staminali. E quindi grazie alla ricerca, grazie ad AIL e ad AERC, che sono fondamentali, quindi grazie alla ricerca, io non sarei più. E andava a casa. Sono riuscita ad andare a casa ed è stato spaventoso quando mi hanno detto puoi andare a casa anche sull'uscire in corridoio. Ho pianto tantissimo, me lo ricordo, però poi piano piano si riesce a riprendere la vita con tanti handicap che sono rimasti, che non faccio vedere. Però oggi è qui e questa è la cosa fondamentale. E credo che lei adesso abbia un'altra visione della vita e un'altra dimensione del contorno della felicità. La felicità è stare bene innanzitutto e godersi ogni istante della vita e anche alle persone che stanno vivendo ora un momento difficile, un momento complicato, anche solo col pensiero, non solo fisicamente, dico che ogni minuto è prezioso e non è finita fino a quando non è finita. Quindi anche quando ti danno delle notizie dove c'è poca speranza, bisogna guardare avanti. Allora, lei rimanga lì, cara Rossella, io mi allontano quel tanto che basta per permettere ai nostri tecnici di preparare quella che è la sua esibizione, che è un'esibizione molto importante, sette mesi in un ospedale. Allora io credo che il modo giusto per accogliere la nostra Rossella sia magari quello di chiudere gli occhi, pensare di non poter abbracciare nessuno, essere in una corsia di ospedale, sentire quell'odore di disinfettante e a un certo punto nel Brusio c'è una musica che non si sa da dove arrivi, ma è la musica della libertà, la musica della felicità, che è per l'appunto a mille voti Rossella Zampironi. Allora, lei rimanga lì, cara Rossella, io mi allontano, essere in un ospedale, Allora, lei rimanga lì, cara Rossella, io mi allontano, essere in un ospedale, Grazie Rossella, io credo che lei abbia portato un buon momento. Lo dedichiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo in ospedale, in questo momento dove le ore non passano mai e sono scambite dai prelievi e dalle visite dei familiari. Se vi abbiamo fatto un po' di compagnia, ne siamo contenti. A tra poco. Grazie. Grazie.